Abbiamo raccontato questa mattina un approccio che abbiamo già e che vogliamo continuare a consolidare nelle politiche regionali. C'è un lavoro a più voci perché il turismo per definizione è materia trasversale, che ha bisogno di sviluppo economico, di trasporti, di ambiente, di welfare aziendale. Per questo abbiamo voluto raccontare come lavoriamo in Puglia, soprattutto abbiamo voluto anche anticipare quello che è il lavoro che stiamo facendo di organizzazione turistica territoriale che avrà sempre di più nel prossimo futuro una ricaduta importante nell'organizzazione dei prodotti turistici per territorio, delle vocazioni turistiche per territorio in un'ottica di integrazione di tutto quello che facciamo, di razionalizzazione delle risorse e anche di riconoscibilità dei brand interni alla Puglia. Sarà la traccia delle attività che svilupperemo insieme allo sviluppo economico con i distretti urbani del commercio, all'agricoltura con i gruppi di azione locale. È un lavoro credo che sia assolutamente interessante in ottica di riorganizzazione ma soprattutto di potenziamento dell'offerta turistica territoriale pugliese. È assolutamente indubbio che gran parte del successo della Puglia passi attraverso le municipalità, la presenza in questa edizione della BIT di oltre di quasi 110 comuni pugliesi in forma singola e aggregata è la cartina al tornasole di quello che stiamo dicendo. Lo sforzo che dovremo fare nel prossimo futuro è quello di continuare a raggruppare le municipalità, far capire che nel turismo il campanilismo è ormai superato, che serve uno sforzo corale, che dobbiamo ragionare in termini di aggregazione e dobbiamo farlo anche con un occhio sempre attento alla partnership pubblico e privato. Per cui saranno anni importanti in cui cercheremo di mettere su questo modello.